a mano a mano a mano a mano si scioglie nel piano il dolce ricordo sgallito dal te il fondo rondea con te la nostra non c'è la nostra ma tanta speranza inzalera a mano a mano buonasera buonasera a tutti in diretta da RDA Radio 1 la voce di Antonio Milano vi saluta vi ringrazio per seguirci da RDA Radio 1 in diretta e poi in rettica un po' sugli oltre 70 canali aderenti a circuitospreaker.com circuito web qui aderiscono parecchi emittenti tra cui stapparadio.it radioballerina1 regno dei borboni 7 che salutiamo e poi oltre agli altri 70 canali anche ci potete seguire le nostre trasmissioni anche su Fracalcio in realtà di origine alla nostra pagina di Facebook e da qualche tempo a questa parte per questa stagione si è aggiunto anche il gruppo amici cui piace Fracalcio in realtà siamo all'edizione M91 qui Crotone per commentarvi analizzarvi e sintetizzarvi un po' quello che è stato l'avvicendamento Alma Bay Stadium tra la squadra di Reggio Emilia del Sassuolo e poi il Crotone e gli squali rosso-blu guidati da Giovanni Stroppa che sono ancora alla ricerca dei primi punti in classifica altro poker rimediato pur avendo fatto vedere degli ottimi spunti sul campo della Mapei Stadium ma non sufficienti per poter avere ragione di un Sassuolo che come il Genoa la giornata del debutto cala il poker contro il Crotone segnando quattro reti il Crotone riesce a segnare a malapena una rete da parte di Nuan Cosimi che realizza la sua prima rete stagionale per l'assegnazione di un calcio di rigore che ha visto praticamente l'assegnazione grazie anche alla fallo subito dal giocatore del Sassuolo che scorrettamente falcia esattamente l'attaccante del Crotone e Burabbià per la certezza ai danni di Luca Cigarini per l'arbitro Ivano Pezzuto di Lecce coadiuvato dunque dal segnalini assistenti Giorgio Peretti e Alessandro Cipressa e dal quarto uomo Antonio Rapuano non ci sono dubbi nel rivedere l'azione attraverso il VAR ad assegnare il rigore che è poi battuto da Nuanco Simi che realizza il momentaneo pareggio del Crotone ma non sarà sufficiente perché poi praticamente il Sassuolo grazie ad una doppietta di Caputo ed un assist di Domenico Berardi che lancia Locatelli a rete fanno poi la differenza realizzando altre tre reti e quindi il Sassuolo torna in vantaggio e vittorioso per 4 a 1 formazioni dopo aver assistito nel prepartita alle interviste del presidente Brenna che parla ancora di Giovanni Stroppa che parlano ancora di calcio mercato e festeggiano e festeggiano l'ultimo arrivato per il Crotone dal Lecce Petriccione si parla di completamento della squadra e ancora di non aver completato la configurazione di questa squadra che non riesce ad amalgamare tutti assieme i giocatori praticamente se andiamo vedendo negli schieramenti visti nell'avvicendamento di queste prime tre giornate terzo turno di Serie A Team dunque non sono altro che due o tre i giocatori i giocatori anziani chiamiamoli così di questa squadra che praticamente vengono dalla serie cadetta e poi tutto il resto è stato rinnovato tra questi giocatori ci stanno il nostro capitano Alex Kordaz e poi Ahmed Benali che insieme a Emanuele Riviere per oggi non sono non risultano disponibili e poi chiaramente Luca Marrone che aveva giocato già in cadetteria ma a fine prestito dalla Verona è stato rinnovato e riconvocato nella rosa guidata appunto da Giovanni Stroppa si parla dunque di una situazione molto anomala per quanto riguarda la squadra della Corotone che praticamente non riesce ancora ad essere incisiva e non riesce ancora a segnare a dovere e tutto il resto praticamente è completamente rinnovato e ancora praticamente tutti quanti assieme si devono ancora ben amalgamare la squadra allenata da Roberto De Zerbi si presenta al Mapei Stadium con formazione così schierata consigli Muldur Kiriches Gianmarco Ferrari ex di turno Toglian Burabia De Frel Locatelli Berardi Caputo Giuricic a disposizione del mister Cannaian Ghion Araslin Kiriaco Opulos Obiang Pegolo Peluso Raspadori Federico Ricci ex di turno Traore e Turati Giovanni Stroppa risponde con Cordaz Traivali Magaglian Luca Camarrone poi Vladimir Golemic Pedro Pereira Salvatore Molina Luca Cigarini Vulic Reza e la coppia d'attacco Simi Messias a disposizione Borello Crociata D'Alterio Dragus Marco Festa Tomislav Gomelt Antonino Mazzotta Mattia Mustacchio Petriccione Andrea Rispoli Nicola Spolli Nicolo Zanellato Partite disputate in questa terza giornata sono l'anticipo giocato ieri tra Fiorentina e Sampdoria all'Artemio Franchi che finisce con il 2 a 1 la vittoria in trasferta della squadra genovese Doriana alla meglio su praticamente la squadra dei Gigliati e poi Sassuolo Grotoni giocata nel pomeriggio la giornata avrebbe in programma Genoa Torino con un rinvio adatta da destinarsi per la vicenda che lega praticamente ben 14 giocatori e un dirigente risultati risultati positivi al Covid-19 e quindi praticamente la Lega ha decretato il rinvio della partita di Genoa Torino data da destinarsi poi mentre vi parliamo Udinese e Roma stanno giocando sono al 56 con la Roma in vantaggio per 1 a 0 si riparte domani alle 12 e 30 con Atalanta Cagliari e poi alle 15 Benevento Bologna Lazio Inter e Parma Verona alle ore 18 si giocherà Milan Spezia e poi successivamente alle 20 e 45 chiude il turno il match clou della serata alle 20 e 45 tra Juventus e Napoli Per effetto di queste partite al momento questa la classifica provvisoria Sassuolo 7 punti Napoli Atalanta Inter Milan e Verona quota 6 punti Juventus quota 4 poi Bologna Fiorentina Lazio Spezia Benevento Genoa Sampdoria a quota 3 punti Roma a quota 2 punti anzi se finisce con il vantaggio della Roma praticamente la Roma in questo momento avrebbe 4 punti riaggacciando la Juventus provvisoriamente e poi Spezia Benevento Genoa e Sampdoria quota 3 Cagliari 1 punto Torino Udinese Parma e Crotone chiudono con 0 punti in classifica che dirvi di di Sassuolo Crotone è una partita che vede praticamente la Crotone alla ricerca dei primi punti in classifica e quindi sperare praticamente nell'arrivo di ulteriori rinforzi Crotone che ha perso 28 delle 39 trasferte disputate complessivamente in Serie A dal primo debutto nella stagione 2016 2017 ed è nella competizione la peggior percentuale del suo esordio con più di 20 gare esterne nel periodo il Sassuolo ha vinto solo una delle ultime 5 gare casalinghe in Serie A proprio 5 a 0 contro il Genoa le altre sono state 2 perse e 2 pareggiate mentre aveva trovato il successo in 4 delle precedenti 6 il Crotone praticamente arriva al Mappeistadium col modulo 3-5-2 mentre De Zerbi risponde schierando un Sassuolo con modulo 4-2-3-1 il match appunto guidato attraverso l'osservazione in campo di Ivano Pezzuto di Lecce inizia la partita nella partita praticamente subentrano dei problemi fisici per Luca Cigarini che per via del dolore resta a terra e costretto ad uscire per un po' dal campo per poi rientrare appena rimessosi Sassuolo in possesso di palla poi sfondo di Simi sulla sinistra appoggio a rimorchio per Messias che non arriva bene sul pallone travolgendo Locatelli e commettendo fallo fase equilibrata con possesso di palla da ambo le parti e ogni tanto qualche spunto in avanti del Crotone impensierisce un po' la retroguardia del Sassuolo all'ottavo minuto fallo di Rezza su Berardi il calcio di punizione fischiato al Sassuolo uno spiovente tagliato di Molina Locatelli in tuffo mette in corner al decimo all'undicesimo tanta confusione in aria di rigore del Sassuolo in qualche modo ci prova ad allontanare Chiriches al tredicesimo lancio in profondità per Simi che scatta in anticipo ma finisce in offside al diciottesimo punizione di Messias che cerca la confusione direttamente in porta para due tempi in due tempi consigli al diciannovesimo il Sassuolo va in vantaggio con una sventagliata di Locatelli per Berardi Berardi riesce ad anticipare un giocatore del Crotone un po' troppo indeciso e poi serve per De Frel che gli restituisce la palla e nel tiro conseguente viziato probabilmente da un tocco di De Frel che Devia praticamente si tarda ad assegnare a Domenico Berardi la rete del vantaggio del Sassuolo il Crotone però cerca di reagire subito Simi si trova oltre però la linea difensiva del Sassuolo uno spunto di Cigarini che tocca in verticare per Pereira che pur scattando con i tempi giusti è chiuso in corner dall'intervento di Mulduro Messias batte il corner viziato da un forte evento che ha condizionato un po' almeno metà della giornata fino a quel momento e nulla di fatto dunque sugli sviluppi del corner praticamente nessun giocatore del Crotone riesce a deviare a rete al ventiquattresimo viene ammonito Chiriches l'intervento in scivolata e falloso ai danni di Reza il caccio di punizione che ne consegue è da posizione interessante l'occasione per il Crotone Cigarini pennella in porta con un tiro diretto che consigli Delia sul montante della traversa la ventisesimo fallo di Bullich su Mulduro viene fischiata la punizionanza solo Mulduro affonda sulla destra viene chiuso in corner dall'intervento di Reza trentatresimo problemi muscolari per Chiriches costretto ad abbandonare il campo al suo posto entra Khan Ayan al trentaseiesimo Locatelli si libera di due avversari entra in aria di rigore ma si trascina la palla oltre il fondo bravo attento comunque Cordaz occasione per il Crotone al quarantesimo Ferreira arriva sul fondo appoggia rimorchio per Bullich che calcia di prima intenzione con il destro il tiro è però troppo centrale e consigli blocca facilmente due minuti di recupero concessi e alla fine praticamente Pezzuto manda le squadre in campo sul vantaggio del Sassuolo per una rete a zero l'avvio della ripresa avviene praticamente dopo tre minuti un intervento falloso in aria di rigore di Burabbià ai danni di Cigarini per Pezzuto attraverso il VAR non ci sono dubbi viene assegnato il rigore al Crotone batte Simi con una conseguente rincorsa lenta e molto fredda e consigli viene completamente spiazzato il Crotone rimedia subito il pareggio alla cinquantesimo Pereira sponda sulla destra lascia partire traversa un arretrato Aianna mette in corner le torri dei calabresi salgono Molina lascia partire un tiro cross dalla tre quarti la palla termina sul fondo sostituzione per il Sassuolo Giorgos Chiriacopulos rileva Mert Bultur e Pedro Obianc al posto di Medi Burabia alla cinquantaquattresimo azione del Sassuolo alla fine Berardi esplode il mancino da fuori aria ma non trova lo specchio della porta sugli sviluppi della ripartenza sul cross di Chiriacopulos Magajan si oppone di mano involontariamente Pezzuto decide di assegnare il calcio di rigore alla Sassuolo dopo aver rivisto più volte il VAR viene ammonito anche Simi pescato praticamente in modo quasi impercettibile a creare un appallo e sugli sviluppi del calcio di rigore praticamente Caputo non sbaglia dagli 11 metri Sassuolo di nuovo in vantaggio al 63 viene ammonito di Sandro Magajan l'intervento suo viene giudicato falloso ai danni di Torghian punizione del Sassuolo da posizione leggermente defilata sulla destra al 65 viene ammonito anche Cigarini per un intervento duro ai danni di Locatelli il Sassuolo attacca pieno organico e il Crotone a fatica esce dall'aria di rigore tocco in verticale di Berardi per Kiliacopulos che sfida con le mici cade a terra ma pezzuto non rapede estremi per la massima punizione alla 72 tanto confusione in mezzo al campo viene ammonito al 74 Kiliacopulos Sostituzioni anche per il Crotone entra in campo Denis Dragos al posto di Milos Budic e poi Tommy Slap Gomert sostituisce Luca Cigarini al 78 Simi controlla in aria di rigore calcia col destro viene murato il Sassuolo riparte Messias mette in aria per Simi che si lascia andare dopo un contatto con Dojana cade a terra ma non vengono rilevati estremi per un ulteriore rigore all'attantaduesimo cerca di abbassare il ritmo e gestire il possesso di palla del Sassuolo invocata di Berardi per Giudic che arriva sul fondo appoggia dietro per Defrel Magole Miccio salva al 85 viene sostituito Pereira per il Crotone al suo posto entra Andrea Rispoli il Crotone sugli sviluppi della ripresa di gioco vede un'azione contrastata in cui Berardi libera l'esterno Caputo che si invola verso la porta del Crotone mette a sedere Cordaz realizza la terza rete per il Sassuolo all'ottantasettesimo contro piede magistrale del Sassuolo Caputo tocca per Defrel che viene murato al momento del tiro 90 per il Sassuolo escono Giudicic al suo posto entra Junior Traoré e Gregoire Defrel lascia il posto a Federico Belluso da punizione Traoré cerca attraverso in aria fuori misura però e quindi il Crotone riparte ma al 93 ancora il Sassuolo in rete con Locatelli il cross di Berardi segue l'indecisione di Marrone la palla resta lì ne approfitta Locatelli che arriva all'armbaggio sul pallone per primo e buca Cordaz con il destro erano concessi erano stati concessi nel frattempo cinque minuti di recupero e quindi sul risultato di 4-1 l'arbitro Pezzuto manda le squadre negli spogliatoi decretando la vittoria del Sassuolo per 4-1 sul suo tacquino Crotone dunque chi deve ancora stentare per vedere di crescere la sua posizione in classifica ed uscire da quel punto critico che lo vede ancora fermo a 0 punti ci sarà da lavorare molto per la squadra di Giovanni Stroppa a detta del presidente Brenna che per vista del prepartita parla ancora della possibilità di ulteriori 3-4 acquisti e di conseguenza il completamento della squadra entro il 5 a chiusura al mercato per poter finalmente avere una formazione competitiva poi ci sarà da trattare praticamente gli esuberini e lo sfoltimento della rosa a disposizione di Giovanni Stroppa e di conseguenza sperare nella quarta giornata il 17 di ottobre nello stadio Ezio Scida alle 20.45 sabato di poter portare punti casalinghi nella disputa proprio contro la Juventus il sogno c'è la speranza pure e di conseguenza con una squadra che ancora partita stento quale la Juventus si spera che si possa approfittare del momento un po' negativo di questa squadra per poter avere dei punti è vero che con il potenziale tecnico della squadra di Giovanni Stroppa i punti non vengono da questi grandi match ma chi lo sa già nell'ultima stagione giocata da Crotone in Serie A proprio Nuan Cosimi riuscì a segnare la rete del pareggio contro la Juventus in rovesciata spettacolare da lì gli è valso praticamente il titolo da parte dei tifosi di nostro CR7 ma bando agli scherzi c'è da lavorare molto per la squadra di Giovanni Stroppa per poter portare un quotiente aggiuntivo molto competitivo riusciranno i prossimi tre acquisti garantiti da 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 presidente Brenna ce lo si augura a tutti ringrazio tutti per averci seguito fino a questo momento in diretta su RDA Radio 1 e poi a seguire sugli spazi in replica assegnati su staffradio.it Radio Ballerina One Regno dei Borboni 7 ed altri oltre 70 canali aderenti al circuito spreaker.com ci potete seguire anche su la nostra pagina di Facebook Fracaccio Realtà The Original e da un po' di tempo da poco di tempo a questa parte anche sul gruppo appositamente creato amici cui piace Fracaccio e Realtà è tutto l'appuntamento è dunque per il post di Crotone Juventus alle 22 e 55 circa di sabato 17 ottobre nell'augurare buonanotte a tutti e buon proseguimento di fine settimana buona domenica da parte di Antonio Milano saluto alla dirigenza di Roberto De Angelis e a Stefano Tini e un augurio alla Crotone di ripartire e di cominciare a segnare i suoi primi punti in campo a mano a mano Rino che ritazza Raffaele quell'altro microfono vai balladino del massaggio che sta per finire ti soffia sul cuore e si ruba l'amore a mano a mano si scioglie nel piano il dolce ricordo sbaglito dal te il fatto l'amore con te la nostra non c'è la nostra ma tanta speranza si scioglie mano a mano